L'oscura, la prima fitta delle due, andiamo a vedere chi mi esce meglio alla prima staccata per adesso Valassa, ma Luca è all'interno con Valsesia alle spalle andiamo a vedere l'uscita, rimane proprio così Ruga, Ruga, Valsesia, Valassa Ruga, Valsesia, Valassa andiamo a capire quante cose in più, poi, più tardi, prima del momento delle finale vedremo anche le tante uno scuola delle classifiche attuali a giornata del campionato italiano anche perché oggi si conclude il campionato italiano del 2018 e per il 2017 potrebbe essere una cosa, Clamo Rosetta ma non ne parliamo un po' più tardi, ma è un po' più tardi, sono un po' più tardi potrebbero essere veramente un po' più tardi, assolutamente importante da vedere e da gustare ok, poi ne parliamo C'è una ruga io non contentissimo, io mi c'era l'ho trovato io ho detto, come di vento, lui mi ha detto, no, non niente in questo caso diciamo che è un po' più facile presso le venture in pista, una ha fatto un Jokerlap al primo giro dobbiamo aspettare che gli altri due lo facciano non dovrebbe sfuggire a nessuno soprattutto non deve sfuggire ai piloti però perché abbiamo visto prima che Prizio sia giocato una vittoria però non ha fatto gioco quindi è ovvio che tra l'altro alcuni piloti ho notato che hanno fatto il Jokerlap da tre secondi a dentro quindi tanta roba perché calcolato come era ieri probabilmente è stata messa a contino dai grandi uomini che manovrano con ingresi enormi che riescono a farlo sembrare delle ballerine Silvano Lugacicrola in uscita però perde la marcia la sta cercando e continua a non trovare sta perdendo tutto ciò che si fa gazzire appunto così sembra in difficoltà Lugacicro ma non è così e Silvano Lugacicrola in uscita e Silvano Lugacicrola in uscita e Silvano Lugacicrola in uscita e Silvano Lugacicro in uscita ma si è perso la marcia proprio l'abbiamo visto qui ha intraversato ha messo dentro la marcia e sentivamo che ha accaspato ma non trovava nulla mannaggia mannaggia volevamo vederlo in grande svolta cercare di capire se fosse la cosa migliore è prendere la via del ferro non solleviamo esatto esatto così non ha nessun senso concludere la hit allora le posizioni sono consolidate più che mai perché adesso tutti e tre tutti e tre tutti e due i piloti rimasti senza l'altro ci ho fatto un po' che ora c'è di più veloce da 500 o io con 106 dipende e io ci sto perché è un 1.6 giusto e questo video lo metti e poi dimostrò che è vero non lo ha diventato dici la prossima volta sul 3-4 sventolerà la bandiera a scatti mentre sono già pronti i tre che si daranno battaglia dovrebbero anche essere una bella battaglia perché ieri abbiamo visto una Andrea Dago che mi pare sia la prima volta che a fare qui a Maggiora però è qui eh è qui eh è qui eh dagli qualche minuto e arriva sto parlando delle prove libera ovviamente ma che abbiamo tutto di traverso poi abbiamo Stefano Cerri che è campione in carica l'ultima gara di due settimane fa qualche polemica spintonata insomma eh però è Stefano Cerri quindi lo vogliamo vedere e c'è un Marco Valazza in grande polo oh ma che è l'ultima curva alla balla ah 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 è che cosa non è che si è piaciuto di Okada su tutti vediamo tra Cerri e Valazza perché ne ando di più di motore rispetto a Dago cerca e sperava Valazza di trovare l'interno su Cerri non si toccano quindi tanta roba perché i difendi lì si aspetterebbe una bella entrata cattiva con l'anteriore sinistra sulla posteriore destra di Valazza su Cerri secondo che ci sono così tante bellezze e magari rovinano entranti la vettura porca puttana se beve non da fare e non mal faccia ho visto Dago è partito per cammino motore ma è lì? come vedete grande la guida tranquillo secondo che ci sono così poche macchine che non hanno fatto nemmeno rinchi iscritti dove hai rinchi iscritti? ma l'hanno mica messo fuori buona guida Cerri sta cercando di imporre il suo ritmo andiamo a vedere cosa combina e Dago fa che dire per stare dietro la Valazza e magari non riuscire a tutta l'altra mi faccio il soco mi levo di più mi tolgo il fastidio devi andare eccolo qua Dago non c'è nessuno davanti che lo ostacola così com'è a Cerri in questo momento è vero io questo ax l'ho già visto da questo ieri delle prime prove la terra il terreno era molto umido e sentire passare Cerri dava passare le vecchie perché era un continuo dovervi lasciare perché andava fuori giri e le ruote slittavano quindi sentite eh? 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 abbastanza fastidioso soprattutto per lui poi dopo la festa si è giocata ecco hai cominciato a schierare come adesso quindi potresti tanto Valazza ne ha approfittato il distacco c'era è andato a parte a giocare più via con il PC toccherà a Cerri nell'ultima tornata in bilancio da Joker World Joker World a me personalmente piace 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 perché viene può far partire una gara ma io ho fatto balazzo quando arrivo qui arrivo sempre e bevo bevo una volta bisogna essere perfetti intrusi sia nella gara tradizionale sia nel giro più esterno e nel rientro in pista e nel trovare il momento giusto per andare a fare ecco che sei arrivato si stacca si stacca talmente notevole su balazza perchè dovrebbero esserci grandi problemi avendo che regalata con il quadro inizierà l'altro portiero con il Joker già fatto 1.05 e 4 con il Joker fatto mentre il miglior tempo sul giro di questa è 59 9.32 questo è proprio Stefano Cerni che guida guida anche questo ultimo giro ma pian piano si sta asciugando tanto ci ha fatto le 5 supercari sulla linea di partenza per la loro hit la loro prima hit e qui c'è una bella battaglia anche per il titolo c'è il rientro di Ivan Camerlino con il suo mezzo ufficiale c'è Marco Norris che ci ha fatto vedere tante cose c'è Ulster Mollo che ha dato dimostrazione di forza anche ieri così come dicono la credi e poi ti ho da vedere intanto Stefano Cerni Balazza Matteo poi Ruga Pazesia e vabbè tutti qui rientrato in Ruga quindi speriamo di rivederlo c'è il Beto Monte Carlo che è avanti non è mai stato più avanti di così in tutta la sua vita due volte è campione italiana con il cross quindi sempre molto professionale Matteo non puoi capire quanto è bello ritrovare un trepiedi no ma il precedente problemi si è quasi spento a livello di cambiata adesso sta accettando lezione all'interno incredibile va all'interno il barco per poter passare su Matteo Balazza e Ruga va davanti ha visto il barco giù che emozioni è molto più larga rispetto alle altre due Super 1600 tempi molto alti nella prima parte perchè Ruga non aveva tempo perchè un titolo può unire meglio poi un 4,49 per Balazza un 4,48 per Pazesia e via Pazesia va già a chiudersi il Soccer Lab di Lotto Pazesia più Davanti Ruga Balazza Balazza le sue spalle proprio in questo punto ha ceduto prima la prima posizione Giovanni Matteo Balazza Pazesia il tempo recupera la velocità portata al confinamento sul Soccer Lab mentre i primi due se lo giocheranno un po' più avanti due giri al termine quindi si Balazza va e rimane poi solo Pio Ruga che lo farà l'ultima tornata eccolo qua questa volta la parte entra che si può che si calca e questa mente il ruolo un po' di cavalleria è riuscito male da quella che è in origine la prima curva della pista in questo caso è l'ultima ma noi continueremo a chiamarle anche nella versione reverse curva 1 2 chicane la 4 il salto è la 6 finale vediamo se va già adesso Ruga non ancora va proprio all'ultima tornata ma fa un vantaggio tale che può farlo quando vuole erano 8 secondi e 7 nel giro precedente scende ancora con il tempo sul giro toglie un secondo stiro precedente ruga niente e niente siamo persi anche con una barca 2 3 tutte ancora un traversone l'ingegnale di l'ingegnale di balanza prima ci siamo persi ruga questa volta ci siamo persi nella stessa hit balanza è un passaggio di più di almeno 1 secondi ma si chiude 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 bene tranquillo tranquillo prima staccata andiamo a vedere come la interpreta l'otago fa che stare bello largo Marco valanza cerca e trova l'incrocio delle linee su cerri e quindi a questo punto andiamo ad ipotizzare che cern secondo me cercherà di farsi il ciò che è verbo se non riesce a passare Marco così l'ha avuto lì ad intuito l'ho sventito dai fatti clamorosamente ma io mi sbilancio la prima curva questa è una delle traiettorie che pensavo più vaste però bisogna che chi è davanti abbia da allargare leggermente perché se rimane completamente in corda chi cerca l'incrocio delle linee non trova nulla eccolo là l'ho preso l'ho preso che vi è guardata c'è un problema l'ho preso noi gioca un arco nooo non mi sembra che sia un gran bel rumore e non mi sembra che abbia tutte le marze perché ci ha fatto tutto il recidino ma non ha un pistone non è che non ha le marze sembra il mio cento porca puttana che puzza che è arrivata è il rumore monotono Sembra il mio 106 Ah già, non muori Sì perchè devi sapere che il mio 106 ha la modalità 126 Non cambia male Nel senso che quando va a 300... Si cazzo me ne prendo Monomarca, questo qui è il torneo Monomarca No, no, no raga no A parte che non è Monomarcia Non è Monomarca perchè c'è un foglio E adesso si va Masco, va l'asta Faccio caldo, vedi Tago Va a trovarsi davanti Eccolo qua, la Tago In la prima posizione Non ritornate le marche senza paresidos Per Cerri Adesso ha un suono Che non è più Da disperazione assoluta E adesso in caccia Un giro e mezzo per cercare di recuperare Ma, Marco Valazza ha già dato con il Joker Lab Deve ancora dare Tago Quindi, pronostico che potrebbe vedere Marco Valazza in prima Ma anche poi Cerri che cercherà di giocarsela Dipende da come fa il Joker Lab Dago Dago ci va a desto per forza Marco Valazza si va a prendere la prima posizione per forza Cerri che non sbaglia Dago a desto Non pensiamo proprio Sarà terzo con quel volum legonio Wow! Uno, due, tre, carroceri Ma però se fosse stato l'ultimo giro Sarà arrivato terzo C'era in teoria Ma anche in pratica Non pensiamo che sia un altimino lontanuccio Quindi Tago Potrebbe essere dalla portata Si sta andando dentro come una satanato Stefano Cerri Tago è il dissidente Si ha fatto vedere delle belle cose E Marco Valazzo Finino in difficoltà Nell'uscita della tre Quindi Tago è lì Tago è lì Con quei due metri qua sotto Oh, uno di voi Due metri e 87 di lontanuccio Ma non vedono anche la straccia di te Ma sì Come la portano a casa Ruga all'interno Girano tutti molto Madonna ma che sport E' afficcato Rrrrrr Ruga Valsesia Valatta Buono Ruga Valsesia Valatta Adesso a mia volta Giro dopo giro Che ci combinano i tre ragazzi Nel frattempo Che stanno aspettando Di schiararsi Marco Valatta Andrea Tago E questo Stefano Cernici Che vedremo però dopo Prima Buschiamoci In un'ora decente E anche la quarta info In modo da avere Un minimo di pausa pranzo E poi attaccare subito Per le due E poi Riuscire a finire tutta la gara Con il tempo asciutto Ruga Ruga Valsesia Ruga Valsesia Valatta Ruga Valsesia Valatta Sì È più caldo Che si contagna È il tirare fuori i tempi Perfetto L'inici Il parchio si è patrione Era un po' preso La venta Le ruote Non ovviamente Ma Diciamo che Non è che loro vanno piano Diciamo che Perfetto di Stefano Che Sono potretti ad andare più piano Dai loro vanno E tutto quattro Tocca sotto L'esciutto Da davanti Di ruga Nooo La Dugia, poi la Dugia, è successo la Parencia, è successo la Roma, che è già successo lo stesso Palazzo qua, c'è due, lì? Non accetto più scommesse. Purtroppo si ferma lì durante la postazione serie. Solo perché non sono in movimento, solo per quello. Faglione uno anche lo Stefano vi ho fatto. La riprendere è palazzo. Ruta! Solitario! Eccopione! Vedremo poi il finale. Giostrerà! Dago davanti! Dago ballasta c'era! Gira benissimo Dago! Con questa traiettoria girano tutti e tre. Guarda il primo! Non ci aspettavamo. Guarda che si sente comunque! I tre insieme con meno potenza arrivava sempre per ultimo alla prima staccata. E invece questa volta ha scelto di cercare di mettersi lui davanti. E finché riuscirà a resistere in questa professione per gli altri due. Ci sarà da lottare. Quindi qua il Joker può fare la difference. Perché la scelta di come quando faccio può essere importantissima. Adesso Dago dovrebbe stare. che mi sa che invece va a buio a farlo. Perché a Giorgio si continua. Io sarei stato... Sarei stato in pista un po' più. Diché non ci passavano. Però... Ma... Ma... Ah! Questo non ce l'aspettavamo dal Marco. Sempre molto preciso. Questa volta la proprio pensa. Niente da dire. Non ci sono... Tante storie da andare a cercare. Eh lo so. Ma Dio fa. E a parte che l'altro si è inchiodato davanti. Quindi vabbè. Tanta roba. Sicuramente, in questo momento, è una sorpresa più... Tanta roba. E la Giorgio non la sicurità. Non perché uno non crede. Tanta roba. Tanta roba. Tanta roba. Tanta roba. Tanta roba dai. Quella volta, no? Tanta roba. Ah! Ma allora la curva sta diventando insidiosa così, improvvisamente? Ma dove mai? Come mai l'uscita dalla curva 1 è diventata infurbitamente un'insidia sia per Mr. Marco Malasta, sia per Andrea Dac, a parte che oggi sono tutti alla presa esperienza, anche quelli che ci ha fatto, che mi fanno riconoscere bene il maggior affrontare oggi non serve al stupo, schegna tutta la sua strada, Dac ci ha preso punta a girarci e dice che c'era attraverso. Non può neccarci se qualche problema, non si immagini, 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 no, vediamo che tutti ha due dove sono usciti prima, adesso con calma, molto bene Tago, molto bene anche la vasca, quindi... La vasca, ha detto veramente la vasca? ha detto io sentito la vasca? ...che hanno il rumore della macchina in Castel Veste e sono impegnati in altro, diciamo che hanno fatto due gol in oro, tutto. E balanza tanto per darti il contenzino, si intramersa fuori. Ora ragazzi, adesso c'è la pista praticamente asciutta. Senta come era ieri, come era anche al inizio della mattinata e forse proprio per questo motivo ci si sente più conflitto. ...e si infilizza più velocemente, più violentamente acceleratore. ...che' che manca? ...una hit più corta, soltanto a tre. ...e questa volta sono ben in cinque compresi tre dell'altra hit che fino adesso non abbiamo ancora affrontato e Silvano direttamente su Brasil allunga. Ruga davanti, poi Dago in seconda, Cerri in terza, balanza in quarta, balanza in quinta. ...questo è quello di città, oh prego città. ...dove...dove...dago...dago e balanza...vanno già al Joker Rap...vanno già al Joker Rap... ...ma sinceramente, personalmente forse non l'avrei fatto. ...ma voglio dire, chi se ne frega, l'ha fatto loro, l'importante è quello. Giusto? Giusto? ...Ruga Cerri...Ruga Cerri, poi... ...Valteschia per dietro Dago e Balanza. Dago e Balanza ha già fatto il Joker, ma Valteschia è davanti, quindi... ...sicuramente qui in baglia Dago che ci va ad allargare, perde anche completamente... ...una spada, fango... ...un paraguolo, perfetto. ...de parte di loro della sua... ...mesura. Ora da vedere queste runga... ...quello è il... ...il paraurti anteriore di Dago... ...che adesso ha recuperato una posizione, ma intanto Balanza l'ha superato, quindi... ...occhio perché adesso bisogna vedere che cosa combina... ...Cerri così del... ...il paraurti, Balanza viene da passare interno... ...Dago sa che è suo... ...quindi cercherà di non rovinarcelo... ...che fatto... ...ok... ...Ruga! ... ... ... ... ...quindi... ...Lotta 3... ...Lotta 3 che vedremo... ...presumibilmente anche in finale... ...Lotta 3, una lotta 3 da finale... ...e quindi ce la pregustiamo... ... ...si è scesi già con Balanza... ...in... ...a 53, 016... ...ovviamente torniamoci... ...i tempi... ...che abbiamo visto prima con il tanto... ...perché... ...come già detto... ...Lotta 3, 016 sono le più... ...capace da un punto di vista... ...tecnico prestazionale... ...quindi... ...un 53 in tempo... ...como va a giù... ...Rugaaaa... ...davanti a Servi... ...e davanti a Balanza... ...Ruga... ...Rugato non parte bene... ...Ruga... ...Ruga parte bene... ...Frena... ...adesso ci tamponano tutti un pelino... ...perché... ...Ruga chiaramente... ...essendo... ...all'interno... ...è andato giù... ...volto calmo... ...No dai... ...Matteo Balazza... ...ha fatto 40 metri... ...ma non sembra di nuovo... ...in crisi... ...e niente lì... ...è bandiera gialla... ...se non rossa... ...è in mezzo alla strada... ...e davanti intanto... ...Silvano Ruga... ...fa rivedere... ...Il Ruga numero 6... ...che abbiamo visto... ...per tanti anni... ...ell'autotrot... ...e ha ripreso... ...la... ...Senta... ...ma che bella è... ...che escono tutti di troverso... ...e uno sconsolato... ...Matteo Balazza... ...abbandona... ...dopo 50 metri... ...non di più... ...quindi bandiera gialla... ...dalla... ...bandiera gialla... ...dopo... ...la vettura... ...dotto... ...dottirmo della curva... ...dotto... ...basta... ...dottirmo di avanti... ...notte poco... ...situazione... ...Ruga... ...Cerri... ...Marco Balazza... ...poi... ...Valsesia... E Dago, questi, nell'ordine, i piloti in pista. Serio, adesso sta cercando di accorsare il pistacco che ha da Silvano Luca, ok, aver vinto il titolo, però cercare magari di portarlo a casa in modo roboante con una vittoria, serve meglio. Problemi per Andrea Dago, problemi per Dago. Non abbandonano le vetture, se no due, due su sei, le andano tantine. Questa ormai in ottime condizioni 52.1, sia per Ruta, che per Sera, che per Volata. Quindi, tre piloti in pochissimi metri e con un tempo sul giro praticamente identico, differenza di pochi minuti tra l'uno e l'altro. Andiamo a vedere ancora, 52.1, 6, 5, 52.1, 0, 4, 52.0, 40. Esatto. E' tutto in una, sì. Presto in un decimo. Andiamo a vedere. Vado, ti faccio già il superlap e lascia gli altri due scannarsi. E adesso Serri in caccia. Stefano Serri in caccia, ha già recuperato parecchio tra l'altro. Quindi, vada, Valtesia. Modalità 126 e mod on. Valtesia, decisamente più staccato dai primi tre. Dago che ha avuto dei seri problemi. Adesso sentiamo. Spesso. Fotore spesso. Parcheggerà dietro a palazza o addirittura esce. Chiudo. Così non lascia la vettura ad incontrare il passaggio. Guarda che c'è lì, lo supera. A Jokerlap e perde. E perde la sua posizione. Ottima mossa di Stefano Serri che aveva capito che forse ne aveva un po' di più. O se non altro ne poteva dare un po' di più. Ha preferito fare Joker prima quando l'ha poi fatto Ruga. E' uscito lui davanti. Prima erano esattamente l'opposto. Prima erano Ruga, Serri e Palazza. Adesso sono Malazza, che però non ha ancora fatto Jokerlap. Serri e Ruga. Se tanto mi dà tanto dovrebbe chiudere, tanto come sono adesso le cose, con Serri, Ruga e Malazza. Malazza adesso basta. Serri messo più di tutti comunque. È Ruga. Perché Stefano Ruga era primo, invece adesso è secondo. 51.603 per Stefano Ruga che adesso se la gioca. E andiamo in un'ultima tornata. Questo è l'ultimo giro ormai per i tre piloti in testa. Chiude anche Marco Valtesia. E quindi questa è l'ultima tornata. Palazza si va a trovare su Ruga che si è allargato un po' la 4 ma viene bene. Adesso chiude l'interno. Ovviamente ad Atleta per non lasciare Barchi, per non lasciare la possibilità a Marco Valtesia di andare a portare. Fano Ruga porta a casa il campione italiano 2018. È Stefano. È Stefano. Grazie a tutti